Dal giocatore della Juve è anche brutto dirlo, ma io spero di riuscire a creare tutto quel ciclo che poi ha fatto l'Inter, perché comunque hanno fatto 5 anni di grandi successi, sono arrivati al tetto in Italia per tanti anni, al tetto d'Europa, del mondo, quindi sarebbe un sogno poter fare quello che hanno fatto loro e speriamo che quest'anno sia per noi la prima pietra, un primo passo verso una rinascita ad alti livelli.